Sì, 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 sì ma se non è capito tanto bene, io gli ho detto si, perché un po' un'altra volta al giro delle mura, no? così, ancora un po' più lungo, poi passa anche questo quando ci ha detto, ormai, da sbendati vabbè, vabbè o poi so un po' più lungo uno mi invece è stato messo perché non erano, non erano ma ovino è stato a bambini , ora mi invece sono c'è, quello che è stato un po' più lungo un po' più lungo una cosa che vuole E' perso un po' di frutto, sapranno, due. Eh, ma perché non si sono affidati, capisci, è una bea strada. Con un'altra foto. E' perso un po' di frutto. 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 Un po' di frutto. E' perso 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 un po' di frutto. Grazie a tutti. 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 Buon appetito, donna Rosa. Grazie a tutti. Buon appetito. 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 Sì, la prossima volta facciamo il canto. Facciamo il canto. Come è che fai i canti buddhisti? Dai, ti fai le... Chiara, cosa c'è? Dai Guido, basta, va finita. No, 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 no. No, 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 no. Ormai è la reconcezione del prononio. I piedi, 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 i piedi. Pronto? E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Wow! Io lo so! Stavo sottotitolo. Mamma mia, vince! Un piccola! Un piccola! Non vado a piattere. E' bella. Poi vedi! André, ebbene! Fatti vedere! Fatti vedere! Ebbene! Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.